Buonasera dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e Bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre per traffico intenso rallentamenti tra Firenze Sud e in Cisareggello in direzione Roma. Ina 11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, due chilometri di coda per un veicolo fermo tra Empoli, Ovest e San Miniato. Si segnalano code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Rallentamenti tra Scandici e Firenze e Scandici in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!